amici di sei che gusto benvenuti in questo nuovo video siamo qui con mattia caranante fisioterapista osteopata salva a tutti salve ciro mattia è un fisioterapista sta studiando quindi ultimando i studi per diventare anche osteopata e qui con noi perché oggi ci parlerà di un problema molto comune e di come l'alimentazione e la fisioterapia possono intervenire per alleviare dolori e sintomi ovvero mattia di cosa parliamo un problema che direi a te è caro parliamo oggi di ernia iatale benissimo cercheremo di capire che cos'è l'ernia iatale soprattutto come riconoscerne i sintomi e come intervenire per alleggerire diciamo situazioni che possono diventare invalidanti si parla di ernia ogni volta che un tessuto un organo migra dalla propria cavità nel caso dell'ernia iatale abbiamo una parte che è il cardias che può migrare verso l'alto e risalire all'interno della cavità toracica oppure una parte dello stomaco che è il fondo che fa la stessa cosa ok quindi cerchiamo di capire quali sono le cause dell'ernia iatale nel senso come si presenta e perché soprattutto tra le principali cause ritroviamo sicuramente l'invecchiamento infatti il deterioramento dei tessuti avviene per tutto quanto il corpo in più abbiamo delle condizioni particolari che possono causare l'insorgenza di tale patologia tra le più importanti abbiamo gli aumenti pressori come per esempio nello stato delle donne in gravidanza il feto va a comprimere lo stomaco che risale verso l'alto oppure nei casi di obesità la fisioterapia quindi come può intervenire siamo qui perché è giusto la tua professione è il fisioterapista assolutamente ci stai dicendo che tramite la fisioterapia noi possiamo intervenire sulla questione in che modo come possiamo trovare il giovamento possiamo trovare il giovamento andando a lavorare su tutti quei parametri che l'ernia iatale va a creare spesso e volentieri i pazienti non arrivano da noi come nel tuo caso dicendo ho l'ernia iatale ma spesso e volentieri questa genera altri tipi di problematiche nella maggior parte delle volte crea una fibroditazione per esempio dei tessuti sottostanti la xifoide e va a generare questo qua un accorciamento di tutta quanta la catena anteriore e questo successivamente causa un atteggiamento con tutta quanta la colonna anche in ipercifosi producendo successivamente il comune mal di schiena infatti questa è una cosa io ho questa postura qui assolutamente derivata da quello immaginavo altre volte invece può generare problematiche di spalla o problematiche sulla zona della cervicale per altre connessioni che queste presenta come per esempio quelle nervose mattia finora tutto chiaro quindi ricapitolando abbiamo visto cos'è l'ernia iatale abbiamo visto quali sono le possibili cause adesso parliamo delle conseguenze cioè quali sono i sintomi che ci devono far accendere il campanello d'allarme di dire forse è il caso di fare un controllo perché ricordiamo che l'ernia iatale comunque va diagnosticata un medico assolutamente e comunque prima di fare questa diagnosi ci sono dei sintomi che ci possono far riflettere sul fatto di doverci controllare è importante sicuramente non trascurarla quindi come facciamo illuminaci talvolta l'ernia iatale può essere asintomatica quindi non presentare alcun tipo di sintomo altre volte invece può essere molto invalidante per la vita del paziente nella maggior parte dei casi il primo sintomo a comparire è un reflusso gastroesofageo ma spesso e volentieri sono anche i sintomi altri sintomi che la caratterizzano per esempio un dolore durante tutte quante quelle volte in cui digeriamo qualcosa quindi mandiamo giù un boccone oppure un bruciore nella zona proprio gastroesofagea fino ad arrivare a dei sintomi che possono addirittura arrivare al cuore quindi sintomi si dice pseudonginosi possono arrivare anche a problematiche di tipo respiratorio abbiamo visto dunque anche quali possono essere le conseguenze di un'ernia iatale trascurata mattia ti chiedo voi di osteopatia sociale che comunque trattate fisioterapia e osteopatia dove e in che modo potete intervenire su questo tipo di problematiche spieghiamolo fondamentale risulta essere in prima in primis la diagnosi del medico che certifica la presenza della patologia fondamentale anche da parte del paziente seguire un corretto regime alimentare che poi alla fine non peggiori alcune sintomatologie che questa può causare e per quanto riguarda il lavoro che noi facciamo noi ci occupiamo di lavorare sul contenuto e sul contenitore sui terreni mi spiego immaginate il corpo come un contenitore e gli organi come il contenuto immaginate adesso di essere davanti alla presenza di una patologia che vi accompagnerà per il resto della vostra vita e immaginate quanto squilibrio questa possa portarvi ecco noi siamo utili per quanto riguarda il paziente affinché questa condizione di squilibrio non si verifichi e li agiamo quindi interviene sostanzialmente la fisioterapia e l'ostopatia a mantenere la condizione nel miglior modo possibile assolutamente e anche se è una condizione silente lavoriamo su tutti quanti quei terreni che possono diventare poi fertili per le varie sintomatologie che può causare talvolta lavorando direttamente appunto sul sintomo altre volte ancora meglio magari prevenendole quindi abbiamo visto anche come interviene l'ostopatia e la fisioterapia per queste problematiche mattia a questo punto qualche consiglio che possiamo osservare ovviamente sempre consigli sempre abbinati da medici e nutrizionisti per l'argomento però ci dobbiamo pensare perché chi non pensa poi sospira quindi assolutamente allora il primo consiglio utile sicuramente è smettere di fumare un altro consiglio utile potrebbe essere quello la di dormire sempre con la testa su un cuscino e di non mettere mai un cuscino sotto la pancia per favorire la forza di gravità e quindi evitare il reflusso gastroesofagio notturno un altro consiglio molto utile può essere assolutamente seguire un regime alimentare dato da un nutrizionista preparato e certificato e evitate l'abuso di farmaci ossia se avete un problema o se avete un qualsiasi tipo di difficoltà rivolgetevi sempre a un medico che vi guiderà per quanto riguarda un percorso appunto medico per quanto riguarda noi assolutamente siamo a vostra disposizione per qualsiasi altro tipo di problematica mattia sei stato chiarissimo ora racconto un piccolo aneddoto sull'alimentazione perché avendo questo problema mi sono trovato in prima persona a dover gestire la mia alimentazione in maniera differente quindi quali sono le linee guida che ci hanno dato le nostre nutrizioniste e poi che io ho sperimentato quindi alla fine vi sto parlando di qualcosa che ho provato sulla propria pelle e vi dico funziona con l'alimentazione io ho risolto oltre il 50 per cento dei problemi legati all'ernia iatale in che modo ho fatto ho imparato a cucinare con meno grassi eliminando diciamo il soffritto eliminando determinate azioni che facciamo nel quotidiano in cucina che possono portare questi problemi quindi ho limitato molto le spezie conoscendo quelle giuste quindi spezie troppo piccanti vanno limitate vanno limitati per esempio i cibi acidi come il limone il pomodoro il caffè non significa che dovete eliminarli dalla vostra dieta alimentazione ma dovete cercare di trattarli nella maniera corretta e se non sbaglio è proprio questo che fare esatto noi cerchiamo di reperire la materia prima biologica o comunque che ha subito meno processi dopodiché l'andiamo a cucinare nella maniera corretta quindi con le giuste tecniche di cottura e con i giusti materiali infine tutto questo cercando sempre di mantenere equilibrio e gusto perché vogliamo sempre sfadare il mito che cucinare sano non vuol dire senza gusto sì ma adesso che si mangia giustamente ma adesso facciamo lavoro a valerio però perché assolutamente d'accordo sei d'accordo perfetto perfetto una pasta leggera leggera salmone e zucchine che potete fare a casa in qualunque momento adeguata anche per questo tipo di problematiche mattia ti ringraziamo grazie per questo prezioso intervento grazie anche a tutta osteopatia sociale grazie a tutti voi aspetta mattia aspetta prima che teneva il caffè lo prendi oh è arrivato pure valerio certo così cucina dai caffettuccio dai lo prendiamo oh ma è buota è certo ne hai già presi tre allora non hai capito niente c'ha ragione grazie ragazzi buonissimo grazie a te mattia ciao mattia grazie buon lavoro è buota è buota dai ancora così sai voi ti devi mettere a cucinare andiamo a cambiare dai c'è con le indicazioni che ci ha dato mattia cerchiamo come al solito di darvi una ricetta sana e gustosa ovviamente prima di proporvela ogni volta noi consultiamo tutti i professionisti del caso quindi oltre mattia abbiamo ascoltato anche la nostra nutrizionista vale che ci prepari semplicissima pasta zucchine e salmone ovviamente non soffriggi nulla assolutamente no ma aver cura di non soffriggere in questo caso perché il fritto e il grasso sono nemici dell'arneia tale dobbiamo evitare il più possibile sia la pirosi che il reflusso gastrico acido non soffriggere in questo caso mi piace non soffriggere in questo caso questo è il nostro piatto finito non ci rimane di assaggiare o assaggiamo è certo mamma mia ti dico com'è è finita buona olia e mazza bella comunque se il video vi è piaciuto come la pasta cero iscrivetevi al canale e non dimenticate la campanella al prossimo video ciao